il dominio di questa specie incredibilmente eterogenea e ai giganti inconfondibili che un tempo li dominavano questa è la storia dell'era dei dinosauri una piccola di diplodoco nata da un uovo non più grande di un pompelmo è troppo piccola per vivere tra gli adulti che potrebbero schiacciarla perciò deve cavarsela da sola l'unica salvezza è l'immobilità più assoluta l'allosauro ha sensi molto sviluppati salva per un soffio così come tanti altri piccoli diplodocchi per massimizzare le possibilità di sopravvivere questi piccoli devono mangiare più che possono nel minor tempo possibile così da diventare adulti di proporzioni gigantesche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti